Stefano Valerio, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per condividere questo libro che hai scritto Saluteremo il Signor Padrone. Sono delle parole queste che ci portano a un pugno alzato, ci portano a lotte, ci portano a contestazioni, alle canzoni rivoluzionarie. E questo libro è pubblicato da Buendia Books ed è una favola sociale. Stefano Valerio, partiamo proprio da questo dato di fatto. Favola sociale. Perché la necessità di mettere questo aggettivo sociale? Bella domanda. Si potrebbero dare tante risposte diverse. Diciamo che la prima che mi sorge mentalmente è un po' l'idea di ribadire il fatto che, a differenza di quello che diceva la cosiddetta Lady di Ferro, la signora Thatcher, che abbiamo conosciuto negli anni Ottanta, secondo cui non esisteva una cosa chiamata società, ma esistono solo degli individui in lotta, in competizione l'uno con l'altro. Ebbene, appunto, a differenza di questo, l'idea è che le cose non stiano proprio così e che anzi siamo totalmente interconnessi, a maggior ragione in un mondo in qualche modo permeato e pervaso dalle tecnologie digitali, ma anche la produzione materiale è un dato in qualche modo estremamente interconnesso. Ciò che viene prodotto in una fabbrica o raccolto in un campo arriva poi banalmente a me, sulla mia tavola, o nel mio garage, per chi ha un garage, e quindi in qualche modo dobbiamo anche prestare attenzione al fatto che le azioni individuali in qualche modo sortiscono degli effetti sociali, anche quando sono più o meno volontarie. E quindi c'era fortemente, appunto, l'idea di ribadire questo dato, di ribadire questo aspetto. Forse non siamo degli individui in lotta, gli uni contro gli altri e soli, a discapito di quello che effettivamente a volte le esperienze e la realtà ci fanno vivere nel nostro quotidiano, ma siamo parte di un grande gioco di società, se così vogliamo chiamarlo. Eh sì, è un gioco di società molto complesso e anche se è un gioco, tutti i giochi hanno delle regole e alle regole bisogna a volte sottostare. Stefano Valerio, a volte noi qui, nel posto delle parole, partiamo per entrare nello spirito della storia di un libro, partiamo dall'immagine di copertina, però questa volta direi di non partire dall'immagine di copertina, perché se noi la raccontiamo troppo entreremmo già in questa storia, perché per la prima volta l'editore ha scelto qualche cosa di molto particolare. Lo possiamo quantomeno anticipare senza troppo dire? Ma sì, proviamo ad anticiparlo sinteticamente, se ci riusciamo. Si è scelto in qualche modo di dare vita ad un processo creativo che, se così vogliamo semplificare, integra l'uomo e la macchina, per usare due parole che sono state appunto molto utilizzate nel Novecento, nel secolo scorso, soprattutto in riferimento appunto allo sviluppo delle tecnologie. E però, a questo punto, senza svelare altro, credo che si possa comunque parlare dell'immagine visibile in copertina, che è tranquillamente disponibile sui vari, anche solo siti internet online, in cui il libro appunto viene reclamizzato. Ed è un'immagine che coniuga una delle scene in qualche modo iniziali del libro, del primo capitolo, con questo sfondo in qualche modo lunare e celestiale, con però anche una figura in qualche modo ormai sempre più emblematica e rappresentativa del mondo del lavoro, che è poi ovviamente al centro della storia. Un rider in bicicletta. Un rider in bicicletta. Ma il mondo del lavoro è un mondo molto complesso, variegato, e questo libro pone in esergo una citazione importante. Certo che quando uno va a leggere le citazioni, io mi chiedo sempre, ma dove diavolo vanno a trovare queste citazioni bellissime di personaggi straordinari, premi Nobel sconosciuti, autori greci e via di questo passo. Stefano Valerio però ribalta la cosa e ci fa scoprire il mondo del lavoro da un punto di vista sicuramente molto singolare, devo dire molto importante. Le parole sono queste. Ma il problema è che i ragazzi hanno perso il valore del lavoro. Io da giovane raccoglievo le mele per due soldi e lo facevo con passione. Adesso l'obiettivo è opposto, non lavorare. Di chi sono queste parole? Ecco, il solo fatto probabilmente di accostare al modo anche lirico, se mi permetti, in cui hai giustamente letto e interpretato questa frase al suo nome, o meglio al nome dell'autore di questa frase che stiamo per svelare, secondo me genera appunto questo contrasto in qualche modo stridente che effettivamente richiama proprio l'idea del ribaltamento, no? La parola che hai usato tu nel descrivere questo esergo, questa citazione iniziale. L'autore è Flavio Briatore, noto appunto imprenditore italiano che in qualche modo con questa frase esprime, secondo me almeno, lo spirito dei tempi, un certo modo di guardare anche alla cultura del sacrificio come qualcosa di necessario per raggiungere il successo, salvo poi scoprire che molto spesso questo successo per 999 su 1000 non c'è, no? Siamo ribaltando ancora una volta quella frase famosa, no? Uno su 1000 ce la fa. E l'idea era proprio questa, ribaltare, ribaltare in qualche modo il piano, fare una specie di detourment, come si dice in gergo, e in qualche modo provare, anche qui senza svelare troppo, a immaginare come fa il libro, che probabilmente Briatore, suo malgrado, ha ragione. L'obiettivo oggi potrebbe proprio essere non lavorare e provare a guardare questa cosa qui da un'angolazione però diversa dalla sua, cambiando il significato delle cose e facendole vedere in positivo quando invece sono considerate tendenzialmente in negativo. Eh sì, tendenzialmente in negativo, però questa storia, man mano che entri nella lettura di questa storia, per l'appunto, ti rendi conto che l'edizione di Favola Sociale si attaglia in maniera veramente molto bella. Siamo a Torino ed è una notte di luna, esattamente, se ricordo bene, di luna piena. E c'è un uomo che si chiama Lino, così comincia questa storia. E Lino è al lavoro ogni giorno, però in una notte può succedere che, voglia fare una scelta e che scelta fa? Non solo lui, peraltro. Ma Lino, come molti altri, appunto, involontariamente quasi, no? Come dicevo all'inizio, si mette d'accordo, appunto, però involontariamente con milioni di altre persone che nella stessa notte, per una malaugurata coincidenza, come dice poi un altro dei personaggi nel libro, cioè una ministra del governo fittizio che in qualche modo è rappresentato, decide appunto di lasciare il suo lavoro la mattina seguente, con dei motivi che mi sembrano più o meno chiari e articolati anche nel libro. Come dicevi tu, è una persona che ogni giorno va al lavoro e come tante altre scopre e realizza in maniera, di nuovo, più o meno volontaria e più o meno conscia che a fronte dei numerosi sacrifici e di ritmi sempre più pressanti quanto gli viene dato in cambio, materialmente non solo, quindi in termini di stipendio, ma non solo, e lo raccontano anche le cronache e i dati che possiamo leggere quotidianamente, non è assolutamente più adeguato e sufficiente. E quindi questo scambio, appunto, fra valore e lavoro, per ripetere le parole usate dallo stesso creatore, non è più qualcosa di equo o quantomeno non è più percepito tale. E questo, come per lui, per tante altre persone che appunto fanno la scelta delle dimissioni. E quindi il reddito garantito dove sta? Il reddito garantito è, come dire, il sol dell'avvenire. Se puoi passarmi questa espressione, che peraltro può non essere auspicato da tutti, ma magari da qualcuno sì. A proposito, vorrei fare un passo indietro in merito a quello che diciamo, perché per far comprendere i nostri ascoltatori da che cosa nasce anche questa storia, saluteremo il signor padrone Stefano Valerio, viva Turino, e lavora in una fondazione come ricercatore in materie socio-economiche. Quindi il tema del lavoro, il tema della complessità del lavoro, lo deve gestire ogni giorno. E come si gestisce questa complessità dal punto di vista della tua funzione professionale? La si gestisce anche lì con un po' di fatica, che mi sembra anche un'altra parola chiave. Probabilmente riconoscere appunto questa fatica è già il primo passo forse di una gestione, che però appunto, ripeto, è complicata, soprattutto in un contesto che, come molti peraltro mi dicono, anche leggendo il libro, effettivamente è più un contesto di individualità che di presenza di solidarietà. Quindi forse anche lì l'esistenza e l'uso di quell'aggettivo sociale è probabilmente più un auspicio che una constatazione di realtà, perché appunto nella complessità che tu richiamavi del lavoro quotidiano e della propria funzione professionale, a volte ci si accorge di essere un po' soli e di essere appunto tutti tarati e ricentrati su una dimensione individuale, quando invece il recupero di una dimensione più collettiva e sociale potrebbe essere benedico. Anche per affrontare, ripeto, quelle fatiche e quei dolori che possono venire fuori da una certa condizione esistenziale. Un romanzo ovviamente è un romanzo, segue il suo percorso, la sua struttura narrativa sulla finzione, non ha velleità di analisi politico-sociologica, antropologica e così via. Però questo romanzo ha i tratti veramente, tra le righe in particolar modo, proprio di analisi politico-sociale o sono parole campate per aria, Stefano Valerio? Ma io in realtà tenderei a rivendicare in maniera esplicita questi due aggettivi, politico e sociale, ma non con la pretesa appunto di tratteggiare un lavoro caratterizzato come nei canoni della ricerca, che magari appunto io vivo nella mia quotidianità professionale, per mostrare che questa è appunto un'opera scientifica. No, ovviamente non lo è, è un'opera in qualche modo, se vogliamo dire, appunto creativa, narrativa, però devo dire che la narrazione può tranquillamente essere anche un motore di riflessione e analisi sulla realtà e mi sembra che negli ultimi tempi, nella letteratura, ma probabilmente è stato così anche in passato, questo aspetto qui sia sempre più presente. Oggi si parla di fiction speculativa, di fiction teorica. E la fantascienza, sia quella politico-sociale, sia quella diciamo classica, in realtà sono sempre stati degli strumenti di riflessione politica e sociale sulla realtà. C'è più utopia o distopia in queste pagine? Ma anche lì c'è un bel mix probabilmente anche a seconda dei punti di vista del lettore, quindi in qualche modo anche il fruitore o la fruitrice singola dell'opera può rintracciare degli elementi di distopia e utopia a seconda del suo proprio personale punto di vista. Io personalmente intravedo più una tendenza all'utopia, però questa è la mia valutazione appunto soggettiva d'autore. Non è possibile che altri vi rintracciano anche degli elementi di distopia. E poi su questo però vorrei concludere, su questo punto di riflessione, con una piccola provocazione. Secondo alcuni la distopia in realtà è ciò che noi viviamo nelle nostre esistenze quotidiane ed è proprio questa distopia ad alimentare spesso il desiderio di fuga e di scrittura di un'utopia letteraria. Eh sì, forse la metto in maniera molto molto semplice Stefano Valeria, ma non hai l'impressione forse che oggi c'è più bisogno di parole come utopia rispetto a distopia, perché la distopia è anche un tratto della società attuale, no? Nella quale società noi vogliamo vedere degli elementi distopici, proprio come elementi che sono cari magari alla letteratura, no? E possano anche essere comodi. E invece avere l'utopia oggi forse è più difficile ancora, è più necessario. Sono totalmente d'accordo e se posso aggiungere qualcosa su questo, effettivamente mi pare di aver letto da qualche parte qualche tempo fa che c'è stata anche una tendenza alla proliferazione della distopia e della produzione di distopie nella letteratura negli ultimi anni. Anche qui forse è un segno di tempi e dello spirito di tempi. E invece effettivamente forse inizia a riemergere il bisogno di utopia che poi probabilmente può essere anche semplicemente intesa come capacità di immaginazione, come capacità di immaginazione di un'alternativa. E qui, con una, diciamo così, struttura d'anello, ripartiamo e ritorniamo forse all'inizio, di nuovo alla Lady di Ferro e a Margaret Thatcher, perché un'altra delle sue frasi più famose era proprio quella «There is no alternative, non c'è alternativa». Ecco, l'idea dell'utopia è provare a smentire questo adagio e provare a dimostrare che si può immaginare un'alternativa. Eh sì, si può immaginare un'alternativa anche se il lavoro oggi, e lo dice anche a un certo punto in questo romanzo, non so più chi sia, a un certo punto hanno automatizzato tutto quanto, ma proprio tutto quanto, e tranne un certo tipo di lavori, che ne so, si ricordo bene, quando ci si deve prendere cura affettivamente e fisicamente gli uni degli altri. Ecco, lì le macchine non sono ancora arrivate. Ma mi preme farti una domanda, Stefano Valerio. A margine di saluteremo il signor Padrone, favola sociale, ricordo pubblicato, ma qualche politico, qualche responsabile di azienda, oppure qualche esponente del mondo sindacale e civile, ti ha commentato quest'opera? Allora, fino ad ora, probabilmente complice, come dire, la mia non eccessiva notorietà, rispetto ovviamente ad altri scrittori e scrittrici, non c'è stato alcun feedback in questo senso, tranne uno, effettivamente, che è avvenuto in una delle primissime presentazioni del libro, proveniente in realtà dal versante sindacale, in cui si è discusso in maniera anche molto civile della differenza tra due concetti apparentemente simili, ma molto diversi l'uno dall'altro, che rappresentano due altrettanto diverse prospettive di visione su questi temi, e cioè il concetto di liberazione del lavoro, piuttosto che quello di liberazione dal lavoro. Chi leggerà il libro scoprirà che sono un po' più legato all'ultimo, al secondo dei due, però effettivamente c'è ancora molto questo contrasto in chi guarda e ogni giorno prova a cambiare o comunque a comprendere, quantomeno, il mondo del lavoro nelle sue complessità. In attesa che arrivi Farouk da Londra, allora. Esatto. Oppure in attesa che il governo si dimetta, come è successo in questo romanzo, ma come può succedere anche nella realtà. Saluteremo il signor padrone, è la favola sociale che abbiamo raccontato insieme con l'autore Stefano Valerio, il libro è pubblicato, come dicevo poco fa, dalla casa editrice Buendia Books, ma prima di salutarci, Stefano Valerio, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ma in realtà in questi giorni sto finendo di leggere con fatica un bel saggio che però si avvicina e riguarda proprio alcuni dei temi, anzi molti dei temi che abbiamo discusso oggi. Un saggio non molto noto che si intitola Accelerazione di Edmund Berger e che è pubblicato da una casa editrice, Nero, che ha promosso molte opere nel dibattito italiano negli ultimi anni proprio su questi temi qui, secondo me, cruciali. A proposito di utopia, no? Esatto. Accelerazione è il titolo del libro di Edmund Berger proposto dalla casa editrice Nero Edition. Intanto grazie davvero Stefano Valerio e buona giornata. Grazie a voi, grazie a te. Buona giornata. Grazie a te.